Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming. Questo è un vlog un pochettino fuori programma, ma sento davvero di doverlo fare a un certo punto, perché ormai è già da un po' di tempo che giornalmente mi arrivano commenti chiedendomi sostanzialmente alla fin fine una sola cosa. Ma Anthem ti sta piacendo o no? Ma vale la pena o no questo gioco? Tutti ne parlano male, oppure tutti ci giocano, oppure al contrario, o qualcuno sta cominciando anche a fare il contrario, tipo, tutti lo stanno adorando ma io non sono convinto, oppure tutti lo stanno odiando ma a me potrebbe piacere. Mi state chiedendo l'opinione sostanzialmente su però un gioco che ancora non ho finito. Detto questo però, i vostri commenti sono ovviamente graditi, ma in fondo anche giustificati perché la serie è andata avanti già da un po' e sono a svariate ore di gioco, una somma dovrei poterla tirare, no? C'è un problema ragazzi, no. Sapete perché? Perché vi posso parlare di quello che è successo fino adesso, ma Anthem si è rivelato essere, molto più di quanto pensassi, un MMO. Io ho esperienza con gli MMO, Massive Multiplayer Online Games, cioè anche RPG. Questo è classificabile forse come MMORPG, però in TPS, non lo so. Non sono bravissimo con le definizioni, comunque sia. In buona sostanza questo gioco qua è un Massive Multiplayer Online. La natura di questi giochi è creare il tuo personaggio, aumentare di livello, farlo luttare come la morte, farlo arrivare al massimo livello e nel mentre finire la storyline principale, ok? E poi arrivare fino a quello che si chiama endgame, in cui lì inizia la seconda parte del gioco, secondo molti il gioco vero, cioè il momento in cui inizi a farmare le instance, a farmare i ride, inizi a fare pvp, inizi a prendere i trinket giusti, inizi insomma a portare il tuo personaggio a un altro livello, anche sbloccando alcune cose importanti e funzionali, come per esempio in World of Warcraft, in una delle espansioni recenti, non potevi sbloccare il volo prima di raggiungere un certo achievement, per così dire. E chi gioca World of Warcraft sa quanto il volo sia importante per non farsi due coglioni grossi come due cocomeri da portare in giro con la carriola, soprattutto in certi momenti, ok? Certo, chi arriva dal vanilla si dovrebbe ricordare anche l'opposto, vabbè, comunque sia. Ragazzi, Anthem è un gioco complesso e la natura di Anthem, voi probabilmente lo state vedendo un po' come lo sto vedendo, come l'avevo visto io verso l'inizio della serie. Ok, ci sono i robottoni, c'è una grafica spettacolare, si spara da matti, si uccidono tutti, si fanno le missioni. Non è così, non è così. Quella è una caratteristica di gameplay del gioco, ma la natura è quella di un gioco di ruolo massivo multiplayer, in cui bisogna aumentare di livello e, in buona sostanza, gran parte del gioco avverrà in endgame. Giudicare adesso un titolo con le caratteristiche che sto notando ora, sarebbe da parte mia, praticamente, cancellare una parte importantissima del gioco. Siccome sono uno che ha giocato tanto a questo tipo di giochi, agli MMO, di tutt'altro genere, per carità, quelli più classici, beh, mi sento di aspettare l'endgame e il punto è che dovreste anche voi rendervi conto di questa cosa, ma al fine di decidere se acquistarlo o meno. Questo è un MMO, ragazzi, ha le caratteristiche molto action, è vero, assolutamente sì, ma sostanzialmente quelle caratteristiche che ha lo rendono un gioco da grinding. Cosa vuol dire grinding? Vuol dire che ci saranno dei momenti in cui tu vorrai una specifica arma e quasi sicuramente ve lo posso predire, anche se ancora non l'ho giocato, ci saranno dei momenti in cui dovrai rifare la stessa missione, cioè la stessa instance, lo stesso boss, almeno una ventina di volte prima di droppare l'oggetto che tu vuoi. Se va come il MMO che conosco io, così andrà a finire, specie con un gioco che è agli inizi come Anthem. Quindi, vi posso soltanto dire quello che so fino adesso. Il gioco ha una struttura meravigliosa all'interno, cioè l'esoscheletro del gioco, cioè la responsività del movimento del personaggio, come è stato disegnato l'ambiente di gioco e il feeling sul pad o su tastiere e mouse, nel mio caso, mentre fai le cose, è eccezionale. O meglio, è molto, 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 molto meglio di quanto mi aspettassi. Guidare l'ostrale e sparare con l'ostrale è una figata. Onestamente è proprio bello questo e ti dà veramente tanta soddisfazione e tuttora mi dà soddisfazione fare queste cose con l'ostrale, anche dopo tutte queste ore di gioco. Quindi per me si può dire che la luna di miele ancora non sia finita. Il problema è che con queste cose meravigliose, vedi una meravigliosa grafica, vedi quanto bene è stato pensato il personaggio per essere gestito così, ok? Ma poi che succede? Cosa c'è dopo? Sto iniziando adesso a notare che il gioco sembra un po' vuoto. Ed è quello che stanno dicendo tutti. Dovevi vivere sotto, non lo so, in una caverna per non accorgerti del fatto che tutti stanno parlando malissimo di questo gioco proprio per questa ragione, per enormi errori proprio nelle dinamiche MMO che rendono un MMO tale e che non è che l'hanno rese diverse, sono mancanti da quello che ho sentito dire e il fatto che è vuoto, non ti dà tante cose da fare e non ti dà soddisfazione farle soprattutto in endgame. Da quello che ho detto, io posso dire che all'orizzonte temo di essere lì per notarla anche io questa cosa qua, ma per adesso ragazzi non vi posso dire compratelo, non compratelo, secondo me è fantastico, secondo me fa schifo. Non riesco a darvi, è ancora un punto interrogativo per me, posso dirvi che mi sto divertendo per ora, ma che bisogna andarci con i piedi di piombo. Quindi mi direte, non hai risposto alla domanda, non ci sei di nessun aiuto, ok? E avreste ragione, ma c'è una cosa che sto consigliando a tutti e non capisco perché non la sta consigliando nessuno, ovvero, qualcuno in realtà sì, ma ragazzi, se avete il PC o l'Xbox, se avete la PS4 effettivamente mi sa che ve la pigliate in quel posto perché non credo ci sia, ragazzi, pagate un mese di Origin Access. Un mese di Origin Access costa 12 euro, quanto costa, non mi ricordo, anzi, no, quella è di Origin Access Premium, e che credo che Anthem sia solo dentro questo, non mi ricordo, perché quello base costa meno di 10 euro, comunque sia, facciamo conto che sia quello premium, 12-13 euro, ok? Voi pagate un mese, in cui per un mese giocate a questo gioco qua, giocate Anthem, e se vi piace, compratelo, ok? Però almeno avete avuto il mese di prova, cioè, se vi piace e desiderate continuare a giocarlo anche dopo un mese, allora potete prenderlo, e tra l'altro sarà diminuito di prezzo, secondo me, giusto di quei 10 euro dell'Origin Access, più o meno, forse no, però, insomma, scenderà di prezzo questo gioco qua, secondo me, a breve. Pagate quel mese, fate questo mese di prova, tra virgolette, perché con Origin Access avete accesso a tutta la libreria di Electronic Arts, oltretutto potete cogliere l'occasione per giocare a qualche altro gioco della Electronic Arts, della EA, che magari volevate provare, perché ce li avete tutti là, avete accesso alla libreria completa della EA, credo che sia completa del tutto, sì, beh, dovrebbe, su per giù. Comunque Anthem c'è e ci sono tantissimi altri titoli, quindi, siete in dubbio? Non vi sto dando una risposta definitiva, state cercando conferme oppure smentite a quello che vi frulla per la testa? Fate un mese di Origin Access, così vi togliete il dubbio. Se siete su PC e su Xbox potete farlo. Ripeto, se siete su PS4 mi sa tanto che ve la prendete in quel posto, disgraziatamente, perché, e fatemi sapere se è vero, mi pare che Origin Access su PlayStation 4 non ci sia, no? Su Xbox invece sì, e su queste piattaforme potete semplicemente fare così e potete vederlo con voi stessi. Effettivamente c'è così tanta gente che mi chiede questa cosa quando la soluzione è semplice, ma la colpa non è la loro. Anthem costa 70 euro di listino, ovviamente, su PC c'è modo di risparmiare, sia chiaro, anche su questo tipo di chiavi, però così poche persone stanno dicendo che si può fare questa cosa, non capisco perché, non capisco perché, è un mese di abbonamento, cioè non ti comporta niente, tu puoi anche dopo disdire l'abbonamento di quel mese a posto, fatto. Puoi anche addirittura pagare il mese e una volta attivato disdirlo subito dopo, dopo tipo sei secondi e poi quel mese comunque ti rimane pagato, anche con l'account disdetto. Quindi ragazzi, secondo me, è la soluzione migliore in questa fase. Se invece proprio volete sapere la mia opinione, temo ragazzi che dovrete aspettare la fine della serie e anche un po' di online di endgame, secondo me, perché un gioco del genere si può giudicare soltanto a quel punto, perché è un mmo, di nuovo ve lo ripeto, io stesso non mi ero reso conto di quanto mmo fosse questo gioco. Io, ho ingannato dal fatto di avere esperienza degli mmo classici, ho guardato, ho visto i robottoni, ho visto il fare fuoco, ho visto morte e distruzione, le esplosioni bellissime, la grafica spettacolare e sono stato tratto in inganno. Questo è un mmo e va trattato come tale e siccome ho esperienza lo tratterò come tale. Già lo sto facendo da un po' e niente ragazzi, la mia opinione, la mia recensione, tra virgolette, ci sarà in endgame. Lì. Prima no, perché secondo me vi darei delle informazioni sbagliate. Quello che però posso dirvi è di fare origin access, ok? Così una risposta ce l'avete, se non altro, e magari qualcosa che non avete sentito da qualcun altro. Dio solo sa perché, questa proprio non me la spiego. Va bene, ragazzi, questo era un vlog extra che volevo fare per rispondere un pochettino alle domande che si susseguono in continuazione in privato, su Instagram, su Facebook, sotto i commenti dei video, nella tab ovunque. Quindi, ragazzi, beh, spero di aver risposto a più persone possibile, spero di avervi dato comunque degli spunti, nonostante aver ammesso che non posso ancora dare un giudizio, nonostante tutto. Va bene, ragazzi, dai, grazie per aver guardato questo vlog extra. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti e magari giratelo a qualche persona che vuole sapere com'è Anthem, no? E potrebbe non aver saputo del consiglio di usare semplicemente origin access un mesetto. Era persino consigliato dalla EA, effettivamente, perché ho giocato con una settimana in anticipo, io a momenti. Va bene, ragazzi, dai, per oggi è tutto. Come sempre, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questo tipo di contenuti anche extra che sto portando. E come sempre qui sotto in descrizione trovate tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale. D'accordo? Fatemi sapere nei commenti e se volete fate girare questo video perché un po' più di persone sappiano di questa banale eventualità che però nessuno dice. Ok? A presto!